È il 2010, il Roland Garros a Parigi è giunto al suo culmine. Francesca Schiavone, orgoglio italiano, sta per compiere un miracolo. Partita dopo partita, Francesca ha combattuto con passione e determinazione. Ogni scambio è stato un passo verso la storia. Giunge la finale contro Samantha Stosur, una sfida epica. Il pubblico è in ansia, i cuori battono all'unisono. Scambio mozzafiato, tensione nell'aria. E poi il momento decisivo. Francesca Schiavone vince, diventando la prima italiana a trionfare al Roland Garros. L'emozione incontenibile esplode in abbracci e lacrime. Il suo trionfo è un simbolo di coraggio, perseveranza e passione. Francesca Schiavone ha scritto una pagina indelebile nella storia del tennis italiano e mondiale. Grazie Francesca per averci ispirato. La tua vittoria sarà per sempre una fonte di orgoglio e ispirazione.